cari amici di mille un'avventura finalmente anche noi sul canale riusciamo a fare un unboxing un unboxing che è in ritardo di 30 anni perché quella che vedete è la scatola del mio commodore 64 senza purtroppo la copertina di cartone con sull'immagine classica che avete sempre visto e quindi 30 anni che non lo aprivo almeno forse di più perciò vedremo se funziona ancora togliamo gli elastici è rimasto chiuso tutto questo tempo in un armadio e alziamo il coperchio superiore se non ci viene il mal di mare perché vedete che in un prossimo futuro eccolo qui il nostro c64 amatissimo in un futuro unboxing eviterò di usare questo regista con la camera a mano che non ha la mano ferma purtroppo pensava forse di essere fermo invece tremava tutto comunque accontentatevi faremo di meglio la prossima volta eccolo qui il c64 col suo alimentatore e ora cercheremo di montare tutto quanto vedete che dopo 30 anni lì dentro il cavo dell'alimentatore ecco è rimasto tutto appiccicato al polistirolo abbiamo inserito il cavo dell'alimentazione ora sto inserendo il cavo della presa scart e una volta 40 anni fa lo usavo con l'antenna poi dopo un po di tempo cambiando televisori ero passato alla presa scart che era sempre un po difficoltosa da inserire ecco che ci sto riprovando dovrei riuscirci adesso esatto e ora inseriremo la presa scart nel televisore sempre che non ci venga appunto il mal di mare e siamo costretti a interrompere e la presa scart la inseriamo nel televisore che vedete lì dietro ecco ora andiamo a cercare la porta giusta della presa scart e togliamo sì la finestra la mettiamo lì e andiamo a cercare la presa scart av2 quello è l'hdmi eccola lì eccola lì l'abbiamo trovata e ora è il momento della verità o finalmente no balla ancora tutto comunque accendiamo schermo nero ecco che si è acceso siamo stupiti vedete la faccia stupita chissà cosa ci aspettavamo ecco qui adesso con la mano un po più ferma la schermata del c64 classica però in 16 noni quindi un po più spaparanzata direi e ora ci lanciamo nei soliti programmini come vedete è tornato il regista di prima e ora cambieremo il colore del bordo come prima cosa che si fa cambiamo il colore dello sfondo eccolo qui il colore rosso di sfondi di bordo nel bordo e ora proveremo un classico ciclo for con la variabile a che va da 1 a 1000 e stamperemo la nostra variabile ed ecco qui che il nostro c64 sa ancora fare i calcoli come vedete penso di avere dei problemi col seed con il processore sonoro mi sembra di ricordare 30 anni fa ci fosse qualche problema comunque i conti vedete li sa fare benissimo e arriviamo a 1000 ci salutiamo in un prossimo unboxing userò il treppiede fermo così non vi verrà il mal di mare guardando questo video facciamo diamo un'occhiata ai tasti funzione alla mitica tastiera del comodo 64 durissima devo pulire i tasti probabilmente ed ecco 1000 ready è pronto per altre per altri comandi a me non resta che ringraziarvi per l'attenzione ci si rivede in uno dei prossimi video ciao a tutti